Benvenuti al consueto appuntamento con le opportunità formative e le offerte di lavoro della provincia di Savona. Benvenuti al consueto appuntamento con le opportunità formative e le offerte di lavoro della provincia di Savona. Buone conoscenze informatiche, esperienza richiesta tra 2-5 anni, contratto proposto tempo determinato full time. La provincia di Savona, in accordo con le altre province liguri, ha disposto per il corrente anno l'emanazione del bando d'esame per accompagnatore turistico. La pubblicazione con relativa apertura dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione avverrà sul sito della provincia entro il prossimo mese di marzo. Dalla pubblicazione del bando gli interessati avranno a disposizione 30 giorni per la presentazione della domanda. Per informazioni contatta il settore politica economica del lavoro, servizio promozione turistica, ufficio, professioni turistiche. Se sei un dottore di lavoro, sul portale Forma Lavoro alla voce sei un'azienda, potrai trovare le migliori soluzioni per il reperimento e la formazione di personale e le informazioni sulle modalità di assunzione più donne alle tue esigenze. In particolare potrai trovare informazioni sui servizi offerti dai centri per l'impiego e sui vari corsi di formazione e bandi aperti. Naturalmente queste sono solo alcune delle offerte che troverete visitando il nostro sito www.provincia.savone.it www.provincia.it